bacio sorprendente al grande fratello cosa nasconde la nuova coppia colpo di scena al grande fratello c'è stato un bacio sorprendente tra fiordaliso e un altro concorrente che aveva avuto un momento simile con un'altra inquilina poco prima tutti sono senza parole di fronte a questo evento clamoroso ora se ne parlerà sicuramente per ore poiché tutti vogliono capire come mai sia successo questo il bacio tra fiordaliso e il concorrente è stato addirittura immortalato dalle telecamere del grande fratello quindi non si tratta di rumor o segnalazioni ma di una prova concreta l'immagine è stata pubblicata sul sito novella 2000 ma sicuramente sui social network ci saranno sempre più commenti per cercare di capire se c'è qualcosa di più tra loro prima di baciare fiordaliso l'altro concorrente aveva scherzosamente baciato anche greta che ha reagito con un sorriso ormai si pensa che sia una cosa specifica con la cantante ma naturalmente nel corso del tempo i telespettatori vorranno saperne di più e anche nella prossima puntata se ne potrebbe discutere a baciare fiordaliso è stato sergio d'ottavi ma secondo quanto riportato da novella 2000 non si sarebbe trattato di nulla di sentimentale ci sarebbe stato dietro un momento giocoso che confermerebbe la grande amicizia nata tra i due concorrenti anche se ci sono persone che non disdegnerebbero una relazione tra i due al momento sembra decisamente improbabile ci aspettiamo qualche dichiarazione da parte di fiordaliso e sergio per capire se ci sono le basi per qualcosa che vada oltre l'amicizia ma per ora sarebbe solo un utopia ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella